Un dialogo inedito tra il pittore veneto Lorenzo Lotto, dal lungo trascorso artistico nelle Marche, e il poeta Giacomo Leopardi, con un luogo in comune, la città di Recanati. La mostra curata da Vittorio Sgarbi a Villa Coloredo Mels, dal titolo Solo senza fidel governo e molto inquieto della mente, Lorenzo Lotto dialoga con Giacomo Leopardi, sarà visitabile dal 21 dicembre all'8 aprile 2018, esposte alcune importanti opere dell'Otto, quelle conservate al Museo Civico di Villa Coloredo Mels, la trasfigurazione, la celebre annunciazione, il politico di Recanati e il San Giacomo Maggiore, affiancate da quelle provenienti dalle gallerie dell'Accademia di Venezia, ritratto di giovane gentiluomo, e dalla fondazione Cavallini Sgarbi, caduta dei titani e gentiluomo con lettera. Per simboleggiare il legame con Leopardi saranno esposti anche documenti e cimeli del poeta, tra cui alcune lettere e il manoscritto del saggio sopra gli errori popolari degli antichi. La mostra è aperta negli orari del Museo Civico di Villa Coloredo Mels, con la chiusura prevista per il giorno di Natale e il primo gennaio. Un'occasione unica dunque per ascoltare, scrutando però con gli occhi, un dialogo tradotto con l'eccellenza della storia dell'arte e della letteratura italiana.